Domenica da incubo, quella vissuta dai tifosi bianco-blu al Simonetta Lamberti. Nel derby con la Battipagliese si cercava una vittoria imperiosa e netta per sancire una supremazia nel girone I sulle zebrette che la posizione di classifica autorizzava a sperare e invece è stata una sconfitta. Maturata tra l'altro in pieno recupero e con l'uomo in più. Insomma, un vero e proprio scivolone dal quale bisogna riprendersi subito. Pena aprire una crisi che non farebbe bene all'ambiente, è già segnato da qualche polemica di troppo per alcune scelte di uomini che la direzione tecnica Aquilotta starebbe facendo, non condivise da pezzi della tifoseria stessa. Ma andiamo per ordine. Si era aperta la partita con qualche scaramuccia a distanza tra le opposte tifoserie sedata subito per la presenza di numerosa forza dell'ordine e il buon senso dei più sugli spalti. La cronaca, dice subito a Battipagliese, gli uomini di Gigi Squillante dimostrano di essere in un buon momento psicofisico e non si fanno per nulla intimorire dagli avversari metelliani che al settimo minuto devono subire lo svantaggio. Non impeccabile nella sua uscita il portiere De Luca che smanaccia un traversone debolmente servendo la palla all'appostato all'eruzzo che non ha problemi a mettere dentro l'1-0. Gelano i settori occupati dalla tifoseria bianco-blu, molto di più di quanto ha fatto per tutta la sfida la fredda pioggia caduta. La cavese deve reagire, riparte a testa bassa e dopo una incornata alta di Manzi su cross di De Rosa al ventesimo trova il pareggio al ventitresimo. Solita grande azione personale del capitano e palla tagliata sul secondo palo sul quale si avventa il baby Luciano che incivolata e insacca. E' il suo secondo gol consecutivo dopo quello realizzato domenica scorsa a Montaldo Fugo. Sulle ali dell'entusiasmo gli aquilotti dominano questa fase del derby e per giunta arriva due minuti più tardi anche la superiorità numerica. Troppi falli del terzino Anzalone che nel giro di nove minuti si becca due cartellini gialli che lo mandano anzitempo negli sfogliatoi. La cavese sfrutta così al meglio la situazione e al trentaseesimo riesce a ribaltare il risultato. L'ottimo Gigi Palumbo addomestica al meglio un pallone al limite dell'area di rigore ospite e serve un assist al bacio per Cosmo Palumbo che inquadra lo specchio dalla porta in sacca alle spalle di Bianco. Sembra essersi messa tutta in discesa la sfida con le zebrette ma non è così. E dopo il terzo gol mancato per un soffio al quarantaduesimo da Luciano che in scivolata questa volta non riesce a bissare sul solito assist di De Rosa in pieno recupero arriva un penalty a favore della Battipagliese un vero e proprio regalo della retroguardia metelliana anche se sull'azione protesta Manzi per un presunto fallo subito sulla linea del fallo laterale non sanzionato dall'arbitro Sassoli di Arezzo. Olcese viene fatto entrare in area senza colpo ferire ed è atterrato da Parisi il calcio di rigore viene trasformato dallo stesso Olcese. Le emozioni, tante, della prima frazione di gioco finiscono qui i tifosi metelliani sperano che la ripresa regali il gol vittoria ma restano delusi. La Cavese non riesce a sfruttare al meglio la superiorità numerica quasi annullata dal vento a sfavore e dal terreno sempre più rovinato dalla pioggia e spreca quelle poche azioni che costruisce con tanta difficoltà come accade al quindicesimo con De Rosa che impegna a terra bianco e il congolese Cabango al trentaduesimo che trova quasi sulla linea di porta all'opposizione di Fiorillo che si immola per evitare la capitolazione. Chietti vuole vincere il derby e sbilancia la squadra passando a una difesa a tre spostando in avanti Manzi sempre pericoloso sulle palle alte ma la mossa non sortisce gli effetti sperati anzi proprio allo scadere del primo dei quattro minuti di recupero il più classico dei contropiedi regala alle zebrette l'insperata vittoria ed è ancora all'eruzzo che buca De Luca con un precisissimo tocco. Sotto i riflettori accesi del Simonetta Lamberti esce mestra la squadra tra la delusione dei propri tifosi e dopo un anno di imbattibilità una ferita da ricucire ora al più presto magari domenica in casa della terza forza del campionato la nuova gioiese.